Ciao a tutti, siamo la quarta teatro, è un'altra la vincita di Padova e stiamo andando di città a Praga. Dopo 12 ore di viaggio siamo arrivati in hotel. Questa è la strada più piccola di Praga e c'è anche il semaforo per i pedoni. Il castello di Praga fu fondato nel nonno secolo, fu la residenza di re di Bohemia, gli imperatori del Sacro Romano Impero, i presidenti della Ceca Solvacchi e i presidenti della Repubblica Ceca. All'interno sono custoditi i gioielli della corona bohema e la cattedrale di San Vito. La piazza di San Venceslao è una delle maggiori attrazioni turistiche della Repubblica Ceca. Questa piazza è conosciuta anche perché luogo dove il 16 gennaio 1969 si è dato fuoco di Ampala, uno studente universitario di filosofia, il segno di protesta contro l'oppressione socioculturale perpetrato dall'Unione Sovietica. In questa piazza ci sono molti artisti di strada che fanno vedere molti spettacoli che attirano molti turisti. Quali tipi di turisti fanno queste immagini? Più più spettacoli italiani sono i migliori che fanno vedere queste immagini. o alcune persone dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Inghilterra. Gli piace vendere questo? Sì, mi piace vendere questo. Il castello ha tre ingressi. Quello centrale che vediamo dopo, laterale, e quello dell'est. Il castello da fuori non sembra di essere castello, sembra di essere un palazzo di 700. Però se guardate in giù e vedete il posato alle sue mura del nord, vedete che è una vera fortezza, che nel 700 è stata decorata con queste mura per diventare un po' più legato. Sì, mi piace vendere un po' più legato. La cattedrale di San Vito fu costruita nel 1344 ad opera dell'architetto Matteo D'Arras per volontà del re Carlo IV di Bohemia. La cattedrale in questione è il tipico esempio di gotico bohemia. L'orologio astronomico è medievale ed è montato sul lato sud del municipio della città vecchia. Il meccanismo è composto da tre elementi principali. Il quadrante astronomico, sul lato quale, oltre all'ora, sono rappresentate le posizioni in cielo del sole e della luna. Insieme ad altre informazioni astronomiche. Il corteo degli apostoli, un meccanismo che, allo scucare di ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti 12 apostoli. E un quadrante inferiore, composto da 12 medaglioni raffiguranti in mesi dell'anno. Tarzin era un piccolo insediamento rurale nei dintorni di Praga. Tra il 1780 e il 1790 venne qui costruita una fortezza utilizzata nel XIX secolo come prigione per detenuti politici e militari. La funzione principale del lager era quella di collettore per le operazioni di sterminio degli ebrei. Propagandisticamente venne presentato come il modello nazista di insediamento per ebrei, ma, nella realtà, era un campo di concentramento. Terzin, inoltre, servì da campo di transito per gli ebrei diretti ad Auschwitz e ad altri campi di sterminio. Esiste un tunnel sotterraneo di quasi un chilometro per il quale passavano i reclusi. Il percorso è esplicativo dei terribili metodi a cui erano costretti i reclusi. Il percorso è inoltre, 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 inoltre.